Da De Giovanni a Laurito, un appello per Manfredi, sindaco di Napoli. Ecco il manifesto Mille Colori per Napoli, firmatari esponenti della cultura, dell'arte, della politica e dello spettacolo. Un laboratorio in cui si confrontano esperienze di cittadinanza attiva, delle culture, della sinistra politica e ideale. Tra i primi firmatari anche Sandro Ruotolo e l'ex assessore di DEMA Nino Daniele, Maurizio De Giovanni, Gian Felice Imparato, Massimiliano Cuntavalle, Mattia Santori e Giasmin Cristallo per le Sardine. Non è solo una lista civica, ma un vero e proprio progetto politico, un movimento che va a rafforzare il laboratorio giallorosso, su cui punta tutto, anche l'ex premier Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle sarà a Napoli, martedì prossimo, dopo che già il ministro degli esteri, Di Maio, ha lanciato la candidatura dell'ex rettore. Il 5 Stelle è compatto su Manfredi, lo sosterremo pienamente per le elezioni comunali. Gaetano è la persona in grado di rilanciare una città che non ha niente da invidiare a tutto il mondo. Gaetano Manfredi, oltre ad essere un brillante accademico, è stato ministro e quindi ha le competenze politiche e tecniche per fare in modo che la sua giunta a guida della città di Napoli sia in grado di spendere i soldi che arriveranno dall'Europa, che sono l'ultimo treno che abbiamo. Prima di Di Maio è stato il presidente della Camera, Roberto Fico, ad avere parole di grande fiducia e apprezzamento per Manfredi, ma su questo punto si è scatenata una polemica senza fine con il candidato del centrodestra, Catello Maresca, che ha accusato la terza carica dello Stato di fare campagna elettorale.